aggiungi un posto a tavola anche no grazie di questi tempi i posti è meglio toglierli che metterli se proprio non si vuole perdere l'antico vizio italico di festeggiare tutte le tappe della vita con un botto di gente l'ultimo dpcm fissa dei paletti che per quanto saggi stanno mettendo in difficoltà alcune categorie imprenditoriali come per esempio gli organizzatori di eventi banchetti cerimonie catering matrimoni e così via sono già tante le disdette piovute addosso ai titolari ragazzini che rimandano la comunione coppie che preferiscono non sposarsi più almeno per quest'anno perché avrebbero difficoltà a decurtare dalla lista degli inviti ormai partiti i nomi in eccesso certo un locale specializzato nel wedding ha più chance di restare operativo per esempio svolgendo semplice attività di ristorazione quella che avendo gli spazi adeguati non vincola entro le 30 persone i clienti commensali mentre ricalibrare l'organizzazione di un catering in villa per uno sparuto gruppo di ospiti sarebbe un gioco troppo costoso che non vale la candela né per l'organizzatore né per il cliente tenete presente che ogni fine settimana c'era già un evento che non sia solo comunione ma non so diciottesimo compleanno quarantesimo compleanno noi organizziamo eventi in generale e quindi sono stati tutti quanti annullati quindi minimo saranno cioè quegli otto dieci eventi che sono annullati abbiamo del personale quindi l'abbiamo lasciato a casa quindi un mese abbiamo un mese di ferie sperando che appunto gli eventi che sono stati annullati potranno poi essere riconfermati successivamente aspettiamo il 13 il 14 di novembre vediamo come come va noi stiamo pensando anche di fare ristorazione per questo mese visto che noi siamo comunque un ristorante a tutti gli effetti la nostra scelta è quella di fare banchetti ma chiaramente ci ci adatteremo per questo mese perché chiaramente dobbiamo anche preservare dipendenti insomma tutta la filiera quindi se chiudiamo ci sarebbero evidenti problemi c'è una un po un paradosso una disparità fra un ristorante che magari può fare negli spazi adeguati faccio un esempio 80 coperti e li fa in una sera e invece una una struttura che fa cerimonie che non può superare i 30 coperti credo che ci sia sì sicuramente una disparità di trattamento fra la festa e la ristorazione normale per questo che noi stiamo andando per questo mese sulla ristorazione quanti matrimoni sono fra virgolette saltati sperando che vengano recuperati per gli sposi nel in futuro ma diciamo il 90 per cento di quello che era programmato per il 2020 è andato all'anno prossimo è chiaro che questo crea anche eventi problemi di liquidità in che modo pensate di continuare a proporre il vostro la vostra location nel vostro cibo stiamo aspettando di capire come proseguire con la nuova normativa per l'autunno però nel mentre stiamo gestendo tutte le distanze tutte le stiamo applicando tutte le normative che ci permettono di continuare a fare eventi appunto non siamo appunto un catering ma essendo una villa che fa banchetti abbiamo la possibilità di aprire anche come ristorante quindi ci adegueremo totalmente a quello che è la normativa vigente